Oh, cacca, tu. Sai che devi dirlo alla mares, vero? Più aspetti è peggio, eh? Lo so. Non posso più andare avanti, eh? E ti sei pure cagato sotto. Vabbè, allora vado. Dai, cazzo! Dai, muovide! Ragioniamo, cabrones. Un quello orfanotrofio sarà pieno di bambini. Come lo troviamo a filo di nosi? Montiamo una pistola sulla testa di una suora. Ce la facciamo dire. I miei tarallucci. Che ne dite? Allora? Con le uova fresche. Sì, e che raccontiamo? Che siamo quattro missioneri colombiani? Ancora più buoni. I tarallucci del mulino bianco. Un mondo buono. Un mondo buono. Vuoi vedere la tabera? Assoluta cosa. Una sosa. Certo. I colombiani! Mettiti di la voce. Hola, Juan. Vuole un cazzo. Cacao e cioccolato da mordere. Ma vaffanculo, va. Sono stata all'albergo. Era pieno di sbirri. Tutta quella la fattuzione. Sì, non hai parato. L'avete fatto di casa? Chi non sta vedere? Già. In una frolla friabile. E quando in su... I Nascondini del mulino bianco. Un mondo buono. Dottoressa, non vuole andare all'appuntamento. Ma certo che ci voglia andare. A non dove ti sono, Rosy. No, 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 mi ha detto di cazzi due. Ma che sei? Delle FBI, di Nass, dalla CIA. È troppo rischioso. Hanno ragione. La tua copertura è saltata. Ti sei fatta vedere troppo in giro. xD 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 I Frenk, hai ragione Sono Magalli Aaaaaahhh aaaaaahhhhh avevi detto fatti vostri avrei vinto del denaro Può vincere 300 euro anche senza guardare Dunque Enzio mi stai dicendo che non sei tu che vuole andare a letto con mia moglie Ma è mia moglie che vuole venire a letto con te Io non ho nessuna intenzione di venire a letto con te Io e mia moglie a letto con te Come mai? Cos'è che non ti piace in me? Aha, quindi vuoi venire a letto con me Mi dica come sta Penso che la tua idea di aprire la porta sia la soluzione migliore per scoprire chi sta suonando il campanello Che cazzo facciamo? Aspettiamo Fa culo, ma state zitto, Gianluca, ma che ne sai che ti ha avvitato la mia? Che l'unica che hai vista è stata allo zoo quando te ci ha portato un papà Che cazzo facciamo?